Ragazzi, la droga non fa bene, ma io vedo dai vostri occhi che voi non siete convinti. Ma forse c'è qualcuno che vi convincerà. Signorina, faccio entrare il degente della tre, grazie. Ma è Pedro Benitez, lo scalatore delle ande. Ma sei veramente tu, ma che ci fai qui? Ragazzi, non drogatevi, ho perso la corsa della vita a causa di quella robaccia. Grazie, Pedro. Grazie. Che lezione di vita, che forza. Stop! Buona!